che combriccola ragazzi no se andavi su io mi incazzavo perché eri lì così se riuscivi a salire porco diavolo ho detto mi vambi da bella camera no 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 vai la zona no 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 hai capito? no no ah ecco grazie no dai mi hanno scoperto del controllo ti porti un po' cos'è? una seconda invece non ti pare non ti pare tu sei come Zambini tu mi pare un secondo No, 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 no. No, 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 no.